Sono 227 gli attualmente positivi al covid-19 in città, 206 residenti a Bitonto, 16 a Mariotto e 5 a Palombaio. 63 concittadini sono invece in isolamento, di cui 25 sono stati già sottoposti a tampone. Altri ancora hanno perso invece la loro battaglia, fra di loro anche una donna di soli 63 anni. I numeri diffusi qualche giorno fa fotografano la situazione epidemiologica sempre più grave, ma far rabbrividire sono anche le specifiche. L'età media dei contagiati infatti è in costante discesa. In tanti sono under 22 e tra i casi spicca anche un bambino di soli 3 anni. I giovani purtroppo non riescono ancora a percepire la pericolosità del coronavirus, come confermato dal comandante della polizia locale, Ghetano Paciullo, che tocca con mano la situazione nella nostra città. Circa 10.000 sono infatti le persone controllate da marzo ad oggi dal personale, impegnato, nonostante le mille difficoltà, a vigilare sul territorio e sul rispetto delle regole. Se non c'è collaborazione, non si va da nessuna parte, cioè non è possibile, tra l'altro il sindaco ha chiesto ripetutamente per due volte il Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica. Non è stato ancora convocato perché si capisce pure in che condizione è la Prefettura. Però è necessario perché voler ottemperare il DPCM con la possibilità che i sindaci hanno di chiudere strade o piazze, chi deve controllare? Data la carenza di forze dell'Ordine, Michele Abaticchio ha deciso di ordinare nuove restrizioni, nella speranza che possano invogliare i cittadini a restare in casa. Da oggi fino al 3 dicembre i negozi di vendita al dettaglio, parrucchieri, barbieri ed estetisti dovranno chiudere l'attività alle ore 19. Dal provvedimento, chi ha trovato il benestare delle associazioni di categoria, sono esclusi bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie già limitate dal DPCM e servizi essenziali come negozi di genere alimentari, farmacie, sanitarie, parafarmacie, erboristerie e tabaccai. Sono tutti tentativi per evitare nella nostra piccola parte di mondo, che è la nostra città, il lockdown. Spero che tutti questi sacrifici, questo enorme dolore venga compensato dal nostro senso civico. Intanto Bitonto si prepara ad affrontare l'emergenza Covid anche sottoponendo i cittadini a test rapidi di screening. L'ASL fornirà infatti tamponi antigenici a medici di famiglia e pediatri. La procedura potrà essere svolta alla Casa della Musica. La struttura, dotata di ampio parcheggio e sita nella periferia, è stata infatti messa a disposizione dal Comune. Palazzo Gentile offrirà anche una segreteria dedicata che prenderà appuntamento con gli utenti. Ad occuparsi delle prenotazioni e delle operazioni di disinfezione saranno i beneficiari del reddito di dignità.